Buongiorno radioascoltatori e teleascoltatori da Alberta Bellussi. Siamo a una nuova puntata della rubrica di Ecologia, Ambiente e Territorio di questa piattaforma. Oggi ho pensato in linea con l'ultima puntata nella quale avevamo parlato di Adriatico, di trivellazioni e di salvaguardia del litorale Adriatico, ho pensato di invitare un caro amico e un esperto e anche una persona a cui ha molto a cuore il litorale della zona di Jesolo. È Nicola Manente, grazie di essere venuto. Buongiorno a tutti. In questa puntata cerchiamo di parlare di Jesolo perché comunque per noi di questa zona Jesolo è un po' il nostro punto dove andiamo al mare, per me è una seconda casa quindi gli voglio un bene davanti. E quindi volevamo fare una panoramica di quelle che sono sicuramente gli aspetti belli ma anche quelle che sono le sofferenze che questo pezzo di litorale ha e cosa potremmo fare per cercare di risolverlo. Una breve premessa, Jesolo, da dove deriva il nome Jesolo? Deriva da Equilum, che era un nome latino che richiama i cavalli, i cavalli veneti, anche se prima Jesolo si chiamava Cava Zuccherina mi sembra, no? Sì, diciamo che la storia è una storia romanica, la nostra, come un po' tutto il nostro veneto è importantissimo e quindi risale all'epoca di prima di Cristo praticamente dove giustamente come ricordavi tu era un'isola, Jesolo, era chiamata Isola Equilum dove venivano portati i cavalli romani che servivano per le battaglie dell'espansione dell'impero romano, venivano portati in questa località, in questo isolotto, a rinforzare gli zoccoli perché la sansedine e le sostanze minerali che per rinforzare i temi e gli zoccoli dei cavalli. Dopo è diventata Cava Zuccherina e siamo a Jesolo. E poi è stata bonificata con una grande bonifica e abbiamo questa bellissima cittadina che noi ora troviamo. Volevo chiederti una cosa Nicola, Jesolo d'inverno gravita intorno ai 25.000 abitanti, invece d'estate a cosa arriviamo? D'estate moltiplichiamo per 10 questo numero di residenti perché arriviamo a punte fino a 250, quasi 300.000 presenze, quindi persone che sono fisse all'interno della città. Ed è sicuramente una delle località che apporta al turismo veneto una grande quantità di turismo, per cui credo sia una delle nostre perle prestigiose che abbiamo. E credo anche che gli ultimi, cioè Jesolo adesso si presenta anche molto bella a livello urbanistico, molto accogliente, però ahimè ha qualche dolorino anche questo tratto di litorale. Sono 13 chilometri di litorale. Sì, il litorale del comune di Jesolo sono circa 13 ed è da quello che ci risulta forse addirittura il comune in Italia che ha il tratto di litorale più lungo, in tutto il territorio nazionale. Quindi è una cosa molto importante da tutelare, da preservare. Dopo ne parleremo, spero, durante il nostro incontro. Non è solo con finalità turistico-ricettiva, quindi non c'è solo il turismo, ma c'è proprio una difesa, viene definita difesa mare, perché tutto nasce dalla volontà di difendere la nostra pianura padana, quindi la parte che lambisce il mare nostro Adriatico, per difendere le popolazioni che abitano e che risiedono all'interno. Quindi le difese a mare che vengono portate sono in primis delle difese e dei costi delle soluzioni per preservare la vita dei residenti e degli abitanti. Dopodiché ci sono imprenditori che negli anni si sono dati da fare, hanno costruito questo modello turistico della costa veneziana, che parte da San Michele a Tagliamento, quindi come Bione arriva fino a Giù a Chioggia, creando quello che è uno degli indotti più importanti dell'economia della nostra regione. I ricettivi più grandi che noi abbiamo. E poi insomma Iesolo ha anche la vicinanza con Venezia, per cui molto spesso è anche punto di approdo per andare a Venezia. Ci vendiamo bene con Venezia. Allora, in realtà uno dei problemi che ha avuto Iesolo in questi ultimi anni è legato all'erosione delle spiagge, che è un fenomeno che in Italia è molto sentito, anche perché quasi il 42% del litorale italiano, pari a quasi 1600 chilometri, ha questo problema. E quindi è un problema che non so se la politica ha capito che c'è, se ci sono dei fondi a cui poter attingere. Però mi sembra di aver visto che per esempio l'anno scorso che le mareggiate sono state molto impetuose e devastanti, Iesolo ha avuto problemi parecchio impegnativi. Sicuramente è legato, questo fenomeno è legato anche al cambiamento climatico, all'inalzamento del livello del mare. Volevo capire da te, uno se questo è un fenomeno degli ultimi anni o se in realtà è un fenomeno che risale ad anni più addietro. E poi volevo capire se ci sono stati fatti degli interventi forti, degli interventi che hanno avuto il loro rimando sul territorio, oppure se si cerca sempre di tamponare per la stagione che viene, insomma. Diciamo che, venendo all'ultima questione che mi hai posto, riusciamo e siamo sempre riusciti e anche quest'anno, e spero, come sarà anche per i prossimi anni in futuri, l'uomo, quindi noi, amministratori e non, interveniamo sempre per dare la possibilità a tutta la costa del litorale veneziano di fare tranquillamente la stagione e quindi di ospitare i milioni di turisti che vengono a trovare le nostre località e le nostre spiagge. Detto questo, però, sarebbe anche bello, visto che, e qui vengo alla prima parte della tua domanda, non è un episodio che risale al 2014 o al 2015. La gestione litorale è un episodio che, da quando esiste il litorale, quindi da quando esiste dopo il post bonifica, la nostra area, il nostro lembo di terra, è soggetto a queste forme naturali. Questo vale per la parte veneziana, vale, come ricordavi correttamente tu, per tutta l'Italia, ma vale anche per tutto il mondo. Abbiamo fatto un incontro a Ferrara nel novembre del 2015, dove eravamo io e un altro collega della nostra associazione Forza Jesu, Forza Veneto, presenti e organizzato all'Università di Ferrara. C'era un incontro internazionale con esponenti della città di New York, che è l'ambita, ovviamente, che la città è da problemi di erosione, piuttosto che una parte della Francia meridionale, sempre turistica, piuttosto che un rappresentante del governo olandese, perché ovviamente anche loro sono addirittura sotto il livello del mare, piuttosto che i rappresentanti delle regioni italiane. Quello che ci fa specie, e ci è dispiaciuto, è che fra le 13 regioni lambite dal mare in Italia mancavano i dati di tre regioni solamente, una di queste era la regione Veneto. Cosa ha fatto il governo? Non so dirti quale sia stato il governo che abbia attuato questo come percorso, però ha portato a livello nazionale questa problematica, costituendo un comitato di raccolta dati fra tutte le 13 regioni. Assolutamente sì, perché il problema è internazionale, anche l'Italia si sta adeguando, ed è quello di contrastare l'innalzamento dei livelli dell'acqua dovuti purtroppo, colpa nostra, al riscaldamento globale. Quindi è un problema molto ampio e molto gravoso sull'economia dei singoli paesi. Lo cerchiamo di arginare in qualche modo. Quello che vorremmo, che ci piacerebbe, è non fare l'italiana, esatto. Se non succede, come diciamo noi in Veneto, che si fa peso il tacón del buso, perché non c'è una programmazione corretta e lineare. Si ricorre quando c'è l'emergenza. Mi sembra che gli esolo la parte più fragile sia quella di Cortellazzo. Sì, perché non è un caso. Gli esolo, si vede che ha la conformazione morfologica, questo lembo di terra a ridosso di due foci, quella del Sile e quella del Piave. Cortellazzo, che è la parte a destra, è quella dove sfocia il nostro storico esatto, Fiume Piave, che è un fiume che ha una portata molto importante. Ma adesso che è stato fatto quell'intervento di allungamento della foce, ha qualche funzione? Diciamo che gli interventi che sono stati fatti dal 98 circa ad oggi sono interventi che sono stati gestiti prima attraverso il magistrato delle acque, successivamente al Consorzio Venezia Nuova, in funzione di quello che è il progetto del Mose, perché ovviamente l'innesto di questa opera artificiale impetuosa ricade anche sulle coste. Infatti mi sembra che c'è stato un grosso intervento sempre legato a uno degli stralci del Mose, una decina di anni fa, 15 anni fa, di allungamento della spiaggia. Esatto, è stato fatto sempre all'interno di quest'opera dal Consorzio Venezia Nuova, questa importante opera sul riparcimento del litorale jesolano e non solo, dove è stata prolungata la spiaggia ad uso dei turisti successivamente, ma principalmente per difendere quindi la difesa mare di cui parlavo prima, il territorio aumentando di circa un 20 metri in alcuni tratti anche di profondità, solo che non essendo stata manutentata tecnicamente si dice, cioè non è stata fatta una manutenzione corretta. Ma la manutenzione dovrebbe essere una manutenzione continua fatta annualmente? Dovrebbe essere una soluzione che ancora non c'è stata prospettata, non è stata attivata, che definitiva non potrà mai essere, perché ovviamente non puoi fermare gli eventi atmosferici e all'annato. Per fortuna la natura a volte si ribellano alle opere dell'uomo. Però quest'anno mi sembra che con Jesu, l'anno scorso è stata parecchio... L'anno scorso è stata abbastanza... L'anno scorso è stata viva e impetuosa, invece mi sembra che quest'anno... Quest'anno anzi è successo quasi un episodio contrario, avendo avuto poche piogge e quindi non c'è stata molta acqua che è ricaduta sul territorio e non avendo avuto praticamente quasi mai mareciate, se non un episodio circa un mese fa, proprio in quell'area lì di Cortellazzo, c'è stato un consolidamento invece della spiaggia del litorale. Esatto, questa è la natura. Solo che sarebbe bello che noi uomini, con un po' più di intelligenza rispetto a quello che è l'animale, dovremmo... Ne parlo sempre. Esatto, programmare per star tranquilli tutti quanti. Quali sono le soluzioni o le possibili iniziative che si possono fare per arginare questo problema? ci sono oltre... quanti metri di terra avrebbe bisogno di esolo ogni anno oppure qual è la necessità che ha? Allora, diciamo che tutto è demandato, ovviamente non al sottoscritto o chi come me ha passione, ci tiene... C'è la tua passione, esatto, del territorio e soprattutto della natura di quello che ci circonda, ma è demandato a dei tecnici, agli ingegneri e agli scienziati che studiano appositamente questi fenomeni, creando magari anche dei modelli. Sì, infatti mi raccontavi che c'è comunque un modello del litorale a Volsavarozzo che stanno cercando in laboratorio di vedere quali potrebbero essere le soluzioni. C'è proprio questo laboratorio artificiale dove è stata replicata tutta la luna di Venezia per lo studio del Mose, ma sono vent'anni che studiano, quindi quello che noi ci aspettiamo noi veneti, ma penso le persone in generale, che ai studi susseguono dopo delle azioni pratiche, perché sennò si vive sempre sull'incertezza. Naturalmente il ripascimento del litorale di Iesolo, qual è l'ente cui aspetta? Allora, ad oggi, esatto, la responsabilità dopo il commissariamento del Consorzio di Venezia Nuova un paio di anni fa per le note vicende tragiche della regione giudiziaria che riguardavano il Mose, è stata prima commissariata anche la competenza sul caso... Sì, perché magari in questo vuoto spesso ci rimanda la responsabilità l'uno all'altro, per cui si tamponano interventi. Ad oggi la regione è tornata in capo, è tornata in capo alla regione la responsabilità e la competenza sul demanio marittimo e quindi sarà la regione stessa che fra i vari interventi si parla di circa 570 interventi deliberati dalla regione Veneto per le opere idriche in tutto il territorio. Ci sia anche la volontà di non fare ancora ripascimenti, cioè farli in modo molto più leve, ma di, speriamo, creare soluzioni testate in quel laboratorio di Volta Barozzo, portarli in acqua, in mare in questo caso, e vedere come risponde il territorio. Una di queste, quella che sembra più importante dagli esiti di questi esperimenti a Volta Barozzo, sembra quella del posizionamento di alcuni manufatti in calcestruzzo compatibili con il territorio, come non chiamate soffolte. Sono una sorta di cordonata di barriera e la loro funzione, io ve lo spiego, cerco di parlarvene con le mie parole semplici e non di tecnico, di spaccare l'onda, quindi rendere meno impetuosa la forza del mare e far sì che tutto funzioni. Allora, ringraziamo Nicola e la sua passione, speriamo che questi interventi vengano fatti, che anche la Regione capisca l'importanza del nostro litorale adriatico, e vi aspettiamo tutti a Jesolo quest'estate perché noi saremo lì. Grazie, ci vediamo la prossima settimana. Alberto Bellussi e Nicola Manente vi augurano buona giornata. Grazie Alberto. Grazie a tutti.